Amici e ricaricatori benvenuti sul Bunker Wild è da un po' di tempo che non ci sentiamo oggi è l'11 agosto tempo fa sul canale ho messo un post dove dicevo che temporaneamente il canale si sarebbe fermato perché non c'è stata proprio la possibilità materiale di registrare nuovi video visti gli impegni della stagione calda che si vanno a sommare a tutti gli altri impegni che magari sono rimasti anche arretrati per colpa del canale per colpa del bunker quindi ho dovuto prendere un attimo di pausa pausa che fra poco dovrebbe terminare dandomi la possibilità di fare nuove registrazioni e quindi di portare sul canale nuovi video perché ci sono veramente tantissime tantissime novità, tantissimi assetti che andrebbero proposti sul canale tra cui assetti nuovi poiché ultimamente Alex ha fatto un bordello, un casino di prove tutte queste prove molto molto interessanti con molte molte novità che adesso vi andrò anche ad elencare man mano verranno portate sul canale come al solito con i video settimanali se si riesce a fare ancora con questa cadenza di pubblicazione se si riesce bene sicuramente non si riuscirà a fare di meglio perché vi ripeto gli impegni sono tanti purtroppo fare un video ve l'ho spiegato diverse volte non è solo come in questo caso fare questa registrazione poi montare il video e pubblicarla ma quando si fanno delle cartucce c'è un lavoro diciamo a monte la preparazione dell'assetto bisogna trovare il materiale tra l'immenso bordello del mio luogo di ricarica fare la cartuccia diciamo impostare più o meno il video registrare il video e poi montare il video cioè tutto questo richiede tempo tempo che purtroppo ultimamente non sono riuscito a ritagliarmi tra i vari impegni allora quindi vi spiegherò in breve quali saranno i programmi diciamo futuri del canale perdonate ma fa un caldo assurdo ma veramente un caldo assurdo allora quali saranno i programmi del canale quali saranno pure le diciamo condizioni per far sì che il canale abbia un seguito condizioni che più volte sul canale vi ho illustrato chiedendovi un determinato comportamento un determinato modo di fare per far sì che il canale potesse crescere potesse avere un seguito ok allora vedete sulla mia sinistra il leve M.T. inneschi dell'OMV questo sarà uno dei protagonisti di qualche video perché è un accessorio che merita specialmente per chi utilizza il calibro 410 ma non solo ma non solo parleremo del calibro 8 facendo un video dedicato proprio alla ricarica del calibro 8 del calibro 8 CF la percussione centrale calibro 8 flobert per intenderci come comunemente viene chiamato dove si illustrerà proprio il processo di ricarica di questo calibro le caratteristiche le prestazioni alcuni diciamo trucchi moderni per velocizzare il processo di ricarica poi ci saranno tutti gli altri video sulla sulla novità delle chiusure che vi ho anticipato qualche volta si tratta di alcune bobine della OMV che riescono a fare una tipologia di chiusura super soft che può essere utilizzata sia in orlo tondo tra virgolette che in chiusura stellare è una chiusura molto particolare con queste chiusure c'era l'intenzione di ammorbidire leggermente le cariche per diciamo avere una cartuccia entro i limiti pressorio o al limite del limite pressorio l'unico dubbio era sulla tenuta proprio di queste chiusure per questo Alex ha diciamo fatto tantissime bancature sia in calibro 36 410 in calibro 28 proprio per verificare le caratteristiche di questa chiusura se era possibile diciamo utilizzarla per i caricamenti tipo tradizionale e se diciamo c'era un certo riscontro positivo con l'utilizzo proprio di questa chiusura come vi dicevo l'unico dubbio era sulla tenuta invece con grande sorpresa la chiusura tiene tiene pure tanto sia in calibro 410 che in calibro 28 e riesce e riesce ad ammorbidire le cartucce riesce a ammorbidire gli assetti stando al di sotto di qualche bar dando la possibilità di formulare determinati assetti e determinate grammature restando nei limiti pressori quindi novità sulle chiusure super soft della OMV con relative bancature poi tra diciamo gli argomenti perché mi sono scritti così evitare di tralasciare qualcosina ho scritto solo una parte perché gli assetti diciamo provati in questo periodo nel periodo precedente da Alex sono veramente tanti quindi ci sono già c'è già materiale ed elementi per fare ma fare veramente tantissimi tantissimi video ce ne saranno altri ancora allora si è provato nella cartuccia tradizionale perché l'avevamo provata anche nelle cartucce silenziate ma si è provata nelle tradizionali la differenza parità di assetto di un bossolo svasato e non svasato chiuso in orlotondo logicamente in calibro 410 si è verificato cosa accade passando da innesco di media potenza da innesco di alta potenza oppure andando a variare il quantitativo di polvere si sono provate anche la differenza su alcune cubette qua parliamo di calibri maggiori si è provata la GP l'F2x36 la BP100 in diverse diciamo assetti il dischetto di plastica versus il cartoncino prove diciamo ai limiti di diverse polveri dispersori ALG in tutte le salse bismuto compreso quindi la possibilità di fare una dispersante che sia utilizzabile anche dove non è consentito l'utilizzo del piombo tra l'altro si è provata anche una dispersante con circa 5 grammi 6 grammi adesso non ricordo bene in calibro 410 o meglio in calibro 36 si sono fatti diversi asset in calibro 36-50 si sono provate alcune cartucce a palla in tutti i calibri insieme nel calibro 36 calibro 28 che nei calibri maggiori per dirvela in breve sono state perché me ne sono segnate sono state provate diversi asset in diversi calibri dai 5 grammi fino ai 64 grammi quindi parliamo anche di 12 89 le novità sono veramente tante tra cui anche la polvere BL6 se non mi sbaglio dovrebbe chiamarsi la polvere di Domonego dell'Armedia Domonego comunque di prove ne sono state fatte veramente tante c'è veramente tanto tanto materiale da poter portare sul canale tutto questo diciamo riprenderà nel il prima possibile quando ci sarà la possibilità di diciamo organizzarmi un pochino meglio con i video perché diciamo considerate che lo stato di tra virgolette abbandono di questo periodo per far sì che si possa riprendere ad un certo diciamo livello c'è bisogno di un pochino di tempo per raddrizzare un pochino la situazione per mettere un pochino tutto in ordine così da essere più veloci e pratici durante l'esecuzione la preparazione l'esecuzione dei video si spera di poter essere operativi con con i nuovi video già diciamo nelle prime fasi di apertura di pre-apertura e vi parlavo prima di condizioni per far sì che il canale possa continuare con la sua programmazione e continuare con i suoi video le condizioni quelli sono semplici cioè e l'interesse cioè quello che si fa che si fa che viene proposto sul canale deve avere un determinato riscontro poiché se non ci sarà un determinato riscontro sicuramente significa che non c'è la volontà di vedere questi video quindi di conseguenza non ci sarà neanche la volontà di preparare e proporre questi video cioè è tutto collegato alle visualizzazioni al riscontro che avranno diciamo i video una volta pubblicati per questo io da sempre vi chiedo di non limitarvi semplicemente la visione del video ma di condividerlo nei vostri profili social che sia facebook che sia instagram che sia che siano i gruppi whatsapp così da avere maggiore riscontro maggiore visibilità da dare maggiore visibilità a questi video per far crescere sia il numero degli iscritti che il numero delle visualizzazioni che poi è la cosa più importante se c'è un riscontro in termini di visualizzazioni sarà la prova che quello che si sta facendo è qualcosa di interessante qualcosa di utile se non ci sarà logicamente il riscontro proprio in termini di visualizzazioni capirete bene che verrà a mancare anche la diciamo volontà di proporre questi video di fare tra virgolette fatica nel formulare assetti nel portare bancare assetti nel formulare video realizzare video montare video e proporre video cioè mi sembra una cosa abbastanza normale no? non mi sembra una cosa così strana ok? chiedere ma no chiedere cioè io in questo caso lo chiedo perché la nostra tra virgolette è quella dei cacciatori e dei ricaricatori è una comunità quindi in conseguenza mi permetto a chi visualizza i video di chiedere maggiore condivisione di dare di chiedere di dare maggiore visibilità con la condivisione dei video ad esempio nei numerosi gruppi whatsapp così ci sarà sicuramente una maggiore crescita del canale cioè io mi permetto di chiederlo proprio perché si tratta la nostra di una comunità diciamo non propriamente in crescita però per quello che possiamo restiamo uniti e fedeli alle nostre alla nostra passione poiché io non faccio video generici rivolgendomi ad un pubblico ampio molto ampio dove posso in base alla qualità dei video in base alle mie qualità e le mie possibilità avere un determinato riscontro quindi se c'è un riscontro significa che quello che faccio è fatto bene se non c'è un riscontro significa quello che faccio è fatto male nella ricarica è un pochino diverso perché mi rivolgo a un pubblico molto ristretto però sicuramente più ampio di quello che attualmente visualizza il canale per questo vi chiedo di collaborare proprio per questo motivo perché ripeto se c'è un certo riscontro significa che quello che viene fatto è apprezzato significa che quello che viene fatto viene fatto bene se non c'è un certo riscontro significa che quello che viene fatto non viene apprezzato oppure non è diciamo fatto bene quindi di conseguenza per quale motivo per quale motivo continuare per quale motivo dedicare del tempo che viene tolto all'altro che viene tolto all'altro per continuare in un qualcosa che non è apprezzato per continuare con qualcosa che non ha riscontro sarebbe tra virgolette da stupidi ok e niente quindi in attesa di nuovi video in attesa di conoscere nel dettaglio tutto quello che vi ho illustrato vi ringrazio nuovamente per la vostra fedeltà e vi do appuntamento a nuovi video realizzati e fatti in collaborazione con coltrio big in collaborazione con alex che si è impegnato veramente tanto per fare tanti assetti da portare sul canale da portare da dare impasto diciamo a tutti i ghiacciatori e tutti gli appassionati di ricarica in modalità fruibile in modalità gratuita ok arrivederci al prossimo speriamo in breve prossimo prossimissimo video sulla ricarica della canna liscia in tutti i calibri sul bunker world a presto